Con le grandi tessere tattili di Tattel Animals Montessori, scopri come sono diversi tra loro i teneri animali. Ricomponi la tartaruga, il pesce, il cane, l'elefante, la pecora e la zebra. E adesso giochiamo alla divertente tombola sensoriale. Tocca e riconosci il manto. Come rugosa la pelle dell'elefante e senti come morbida la lana della pecora. Qual è più folto? Il pelo del cane o le squame del pesce? Tattel Animals Montessori sviluppa l'intelligenza corporeo-cinestetica. E tu? Di che intelligenza sei?